Domani quello che andremo a dire nelle scuole, il concetto principale è quello di sensibilizzare i bambini sull'importanza dell'acqua, soprattutto l'importanza di non sprecare l'acqua, questo è un bene comune. Noi useremo il gioco, quindi saranno i bambini con le loro domande a creare un momento leggero di gioco, ma con l'obiettivo appunto di riportare delle buone pratiche quotidiane a loro e alle loro famiglie, perché parlare con i bambini significa incontrare anche le loro famiglie, quindi le persone adulte. Un bambino sicuramente lava i denti, lava le mani prima di cena, quindi queste cose che quotidianamente facciamo noi ma che fanno anche gli adulti e quindi stare attenti a chiudere il rubinetto dell'acqua nel momento del lavaggio dei denti, piuttosto che nel momento in cui ci insaponiamo le mani, queste cose qui sono le cose più banali ma che i bambini sicuramente conoscono e saranno anche il nostro futuro, quindi secondo me parlare con i bambini oggi darà dei risultati in futuro, questo è sicuro.